Monta la protesta dei residenti di San Giorgio per i ritardi nell'avvio del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. I cassonetti di prossimità, dopo essere stati spostati diverse volte, si trovano attualmente nei pressi del villaggio Salita degli Olivi, per intenderci nei pressi del sottopassaggio, alle spalle di Timpirussi. Un posto in pratica difficile da trovare, non proprio di passaggio, nascosto e per questo prediletto da chi vuole disfarsi di rifiuti ingombranti senza fare la fatica di raggiungere l'isola ecologica, come d'altronde accade anche in altre piazzole di sosta della zona. Non solo, come lascia intendere il tanfo sprigionato dei cassonetti, c'è anche chi conferisce lì con frequenza scarti di pesce. Stanchi della situazione, i residenti si sono rivolti alla nostra redazione. È diventata una discarica a questo punto, questa bretella stradale. Praticamente chi arriva da Burgia, da Ribera, da Sciacca, continua a buttare immondizie qui, non solo immondizie, materassi, ferro, sterpaglie, di tutto e di più. Con un piano regolatore tra l'altro accettato, o vengono spostati e smistati, magari non tutti insieme, non so, due in un posto, due in un altro, in zone che servono, non qui che non servono. È un posto oltretutto scomodo qui, quando piove si crea un torrente e i contenitori tendono a scivolare? Sì, sono scivolati parecchi. Tra l'altro troviamo sotto il sottopassaggio che abitualmente facciamo bottiglie, sacchetti, che trascinano i cani, acqua e quant'altro. Un problema oltretutto sollevato più volte, in passato dalla Presidente dell'Associazione Pro San Giorgio, Raffaella Osso. Chiediamo la soluzione al problema della raccolta dei rifiuti, perché da tanti anni noi siamo in grosse difficoltà. I cassonetti vengono spostati di continuo, però comportano grossi problemi. Perché? Perché al momento dove si trovano, la zona è molto lontana da San Giorgio, non c'è un palo di luce, poi c'è il randaggismo che non dobbiamo trascurare, per cui è veramente problematico. Tra l'altro, non essendoci una videocamera, qui succede di tutto e di più, perché la gente viene a scaricare di tutto, anche parliamo di roba voluminosa. E poi ci sono anche, per esempio, i commercianti di pesce, che scaricano le cassette con i liquami, e quindi è una cosa impossibile per chi abita qui nei pressi. Allora, io chiedo, in qualità di Presidente dell'Associazione Pro San Giorgio, che si faccia la raccolta porta a porta, come è stato detto nel mese di dicembre del 2018, dall'assessore Brunetto. Sono passati quasi due anni, però ancora non si vede nulla. Questa è la soluzione perfetta per ovviare al problema che noi stiamo presentando oggi. Se si ritarda con la raccolta porta a porta, possono ritornare i cassonetti all'ingresso di San Giorgio, però a condizione che ci sia una videocamera e che la raccolta da parte degli operatori ecologici venga fatta giornalmente e ogni tanto si faccia disinfezione e disinfestazione.